Non decolla la quarta dose di vaccino anti-covid nelle Marche che da metà aprile è stata attivata per i cittadini con più di 80 anni e per gli over 60 in condizioni di elevata fragilità. Non c'è l'obbligatorietà in termini di Green Pass e questo sta creando una diffusa sottovalutazione. Lo dicono i numeri, finora sono meno di 2.200 i marchigiani over 80 che hanno ricevuto la quarta dose, una cifra che salirà 3.000 considerando chi si è già prenotato attraverso la piattaforma online delle poste e che può ricevere la quarta dose di vaccino negli hub o in farmacia. Numeri che sono però troppo bassi considerando che sono 116.000 gli over 80 che hanno ricevuto tre dosi. Invito poi tutte le persone con oltre 80 anni a prenotarsi, ci sono troppe persone, c'è una persona oltre 80enne in terapia intensiva, ce ne sono 57 oltre 80enni nel reparto ospedalieri perché non hanno fatto la quarta dose o la seconda dose booster. Sono persone che rischiano, questo lo dice la statistica. Naturalmente io auguro a tutti le migliori condizioni di salute ma se possiamo prevenire forse è meglio. Mi permetto di dire questo alla luce delle evidenze scientifiche che sono sottolineate ogni giorno dai scienziati non solo regionali ma anche nazionali. I ricoverati in terapia intensiva nelle Marche oggi sono saliti da 5 a 7 unità su 117 ricoverati totali. L'incidenza da contagio è a 798 casi ogni 100.000 abitanti dopo i nuovi 2154 casi registrati oggi.